Veneto a Sant'Arcangelo! Siamo un gruppo di volontari di Sant'Arcangelo e siamo impegnati in spese su spese e collette alimentari. Raccogliamo beni di prima necessità, igiene per la casa e per la persona, da donare poi alle famiglie di Sant'Arcangelo segnalate dai servizi sociali. Grazie per la visione! Veneto a Sant'Arcangelo è una chiamata di solidarietà. Ognuno dona quello che può e il tempo che ha. Veneto a Sant'Arcangelo! Veneto a Sant'Arcangelo! Grazie per la visione!